Un punto per uno e un tempo per uno. Si conclude senza reti la super sfida del Girona F. Tra Chieti e San Benedettese però non sono mancate le occasioni per segnare anche sotto il profilo agonistico è stata una partita bella e tirata. Prima del fischio d'inizio consueto regalo della società e gli spettatori dell'Angelini, stadio sold out, già da alcuni giorni 4.000 le presenze di cui 650 arrivate dalle Marche. Spettacolo e intrattenimento con la showgirl Valeria Marini e Filippo Roma inviato delle Iene e poi tanta musica assicurata dal DJ set. Sugli spalti le coreografie dei brividi della Curva Volpi che festeggia i 50 anni di tifo organizzato e veniamo alle scelte. Chieti senza Didio e Balic non convocati ma Ignoffo può tirare un sospiro di sollievo perché ha recuperato Ceccarelli in campo dal primo minuto. Il tecnico ridisegna la squadra inserendo Don Sa al posto di Turei in una sorta di 4-3-1-2. Dall'altra parte Ottavio Palladini con il consueto 4-4-2. Il tecnico recupera Pezzola e Orfano out Paolini. Dopo il calcio d'inizio di Valeria Marini e di Lorenzo Marchetti, uno dei due fondatori di Virgo, ha inizio la gara sotto la direzione di Kovacevic della sezione di Arcoriva. Quinto minuto, Nero Verdi, oggi in completo bianco, subito in avanti tra persone di Guerriero e colpo di testa di Don Sa che non inquadra la porta. Un minuto dopo pericolo per il Chieti con Carriota che serve in area Lonardi. La posizione è ottima per far male ma il tiro termina tra le braccia di Servalli. Ottavo, palla gol per la Samb. Eusepi non riesce a spingere in rete da pochi passi. Poco dopo ha annullato un gol agli ospiti Zini che assieme a Carriota sulla destra ha causato diversi problemi e la difesa del Chieti entra in area. Tiro sul secondo palo su cui si inserisce Battista ma si alza la bandierina dell'assistente per segnalare il fuorigioco. Al decimo Chieti vicino al vantaggio. L'azione parte da Guerriero che recupera palla sulla tre quarti. Innesca Fall, pallone a Ceccarelli e ancora tocco per il numero 9. Nero Verde che conclude verso la porta spolverando la traversa difesa da Orsini. 22esimo Carriota semina il panico in area del Chieti, conclusione deviata in angolo. Trentesimo ancora il numero 7 della Samb in area per Eusepi, Servalli e attento. Non c'è un attimo di tregua. Al 33esimo la conclusione di Forgione fa gridare al gol, gran riflesso della portiere ospite. La prima frazione di gioco in cui si è fatta preferire la Samb si chiude con una parata di Servalli sul tiro di Battista. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Chieti che entra in campo più convinto al dodicesimo buona occasione per Forgione, servito da Ceccarelli. Il capitano però colpisce male la sfera. Poco dopo esce Donzà ed entra Touré. Il Chieti torna così al classico 4-3-3. Anche Palladini cambia. Al 24esimo esce Leonardo ed entra il Touré rosso-blu. Ora la Samb si mette a specchio. Il Chieti si rivede dalle parti di Orsini. Sul calcio d'angolo, Forgione colpisce di testa, palla alta. I neroverdi insistono e al 37esimo Ceccarelli ci prova dalla media distanza con offendente che Orsini riesce a deviare. Azione ancora viva. Ci prova Casciano senza fortuna. La partita finisce qui. In classifica la Samb viene raggiunta dalla Fossombrone. Al primo posto a due punti la coppia Chieti-Teramo. Domenica prossima la squadra di Gnoffo giocherà in casa della Civitanoese. Infine notizia dell'ultima ora. La società neroverde ha intenzione di ingaggiare Vutai, attaccante di movimento di 29 anni. Italo-albanese ha giocato in Serie C col Foggia e in D col Novara. Tantissimi gol, 31 in un solo campionato e promozione in Serie C. L'annuncio nei prossimi giorni.